Un saluto a tutti i lettori di telefonino.net, video che sto registrando con la fotocamera da 13 megapixel dell'LG G Flex. Il video è in Ultra HD con una risoluzione da 3840x2160 pixel a 30 frame al secondo. Proviamo a muoverci rapidamente verso destra, poi verso sinistra. Andiamo a scovare il sole per un bel contro luce. Possibilità di zoom fino a un massimo di 8x. Provo delle immagini camminando e torniamo sul nostro dettaglio iniziale. Messa a fuoco, ripeto, video che ho registrato con la fotocamera da 13 megapixel in Ultra HD con l'LG G Flex.